Ciao ragazze, allora nuovo video, per questo video ho pensato di parlarvi di una nuova linea di profumi che si chiama MD o forse M&D Parfum che ho scoperto da davvero pochissimo tempo non avevo mai sentito parlare di questi profumi poi un giorno mi sono trovata da acqua e sapone in quanto una mia amica era lì per lavoro e aveva bisogno di una mano per fare alcune cose io sono andata appunto un attimo a consigliarla dovendo stare un bel po' di tempo lì nel punto vendita fra tutti i profumi, quelli delle grandi marche ho trovato vicino questa linea appunto MD erano presenti ben 6 profumi di questa linea e annusandoli qui e lì anche un po' per passare il tempo ho visto che la maggior parte di quelli esposti appunto erano dupe di profumi molto famosi nel momento in cui li ho visti la prima volta non li ho acquistati in quanto tutti i profumi MD da acqua e sapone hanno un prezzo di 19 euro quindi abbastanza costoso per essere un profumo dupe di uno famoso però comunque le confezioni tutte contengono 100 ml di prodotto e sono tutte Eau de Parfum quindi non Eau de Toilette e questo è sempre un vantaggio in più per noi consumatori naturalmente tornata a casa ho dato un'occhiata anche su Amazon tra l'altro poi vi lascio i link di tutti i profumi giù nell'info box perché se siete curiosi di provarli sinceramente se non li trovate in offerta da acqua e sapone o in altre catene secondo me i prezzi Amazon sono fra tutti i più competitivi perché anziché 19 euro e 90 su Amazon li andrete a pagare fra 14, 15 e 16 euro quindi non è tantissimo ma c'è comunque già un bel risparmio sempre vedendo su Amazon ho visto anche che rispetto al mio punto vendita acqua e sapone abbiamo anche delle fragranze molto diverse in questo video avendo provato per lo più sulla mia pelle tutti quelli presenti da acqua e sapone vi parlerò solo di quelli che sono sicura qual è il profumo dupe e solo quelli che ho veramente provato sulla mia pelle per me sarebbe molto più semplice ragazze mettermi qui e farvi l'elenco di tutti i profumi dupe famosi ma io ci tengo assolutamente ad una cosa prima di girarvi il video infatti non vedrete questo profumo in tonso a provarlo nel senso che quando trovo una linea di profumi che sono dupe famosi e di cui secondo me ne valga la pena parlare qui sul canale io ve ne parlo altrimenti non vedrete mai un mio video se magari so che quel profumo si è un dupe famoso ma non è valido passo quindi ora a elencarvi un po' tutti i profumi che ho trovato e naturalmente i loro dupe famosi in primis abbiamo profumo md glamour che corrisponde a coco mademoiselle di chanel quindi ragazze se adorate questo profumo mi raccomando andate almeno da acqua e sapone se lo avete vicino a provarlo e vedrete che comunque si sente abbastanza e non svanisce facilmente secondo profumo trovato è md ilo di cui purtroppo non sono riuscita a scovare il dupe anzi fatemi sapere ragazze voi nei commenti se per caso avete già provato questo profumo se lo avete trovato se sapete qual è il dupe di modo che possiamo aiutarci ecco a vicenda md lamour corrisponde invece alla vie belle di lancome il profumo md passion quello dal packaging più scuro corrisponde al famosissimo alien di Thierry Mugler poi ancora il md seduction quello col packaging rosso quindi anche qui visivamente vi dovrebbe subito venire mente che è il dupe dell'hypnotique poisson di Dior ed infine io ho deciso di acquistare fra tutti i profumi md il sensual che come vedete ha questo packaging esterno rosa ma all'interno è naturalmente completamente trasparente con diciamo tutte le rifiniture color rosa chiaro naturalmente come vi ho detto anche prima tutti i profumi md contengono 100 ml di prodotto e hanno un pao di 36 mesi quindi anche molto buoni sono tutti profumi made in italy e questo è quello che mi ha spinto ancora di più ad acquistare questo prodotto e naturalmente sono Eau de Parfum riguardo l'inci posso dirvi che è pressoché uguale ai profumi dupe in quanto è a base di alcol denaturato fragranza profumo per fortuna non contiene parabeni e grandi schifezze e questa cosa mi piace moltissimo allora adesso proviamo a spruzzare il profumo così vi faccio vedere che anche la confezione wow è perfetta molto pesante devo dirvi perché è in vetro trasparente quindi portarla dietro pesa un po' avendo la confezione così trasparente vi consiglio di non lasciarla troppo davanti ai raggi diretti del sole perché il profumo potrebbe alterarsi più facilmente quindi magari mettetela in un posto più nascosto non troppo a contatto ecco con il sole allora il profumo è identico è proprio identico al Narciso Rodriguez riguardo la durata sia di questo che degli altri profumi che ho avuto la possibilità di provare da acqua e sapone posso dirvi che sulla mia pelle che tende un po' a non far durare bene i profumi è di 4-5 ore massimo poi vado sempre a riapplicarlo ho notato che però si è spruzzato sui vestiti ha una durata anche maggiore siamo sulle 6-7 ore mi piace moltissimo si sente anche molto fa un pochettino forse seccare la pelle ma questo è anche dovuto al freddo e lascia un po' la pelle appiccicosa sì ma solo nei primi momenti l'alcol evapora subito e poi rimane proprio la fragranza che è buonissima io non adoro moltissimo Narciso Rodriguez perché è un po' un profumo per me troppo popolare nel senso che lo portano tutti io preferisco profumi più particolari però la fragranza c'è è buonissima mi piace molto e poi sono davvero molto contenta che appunto questi profumi MD siano così performanti nonostante sono sincera il prezzo non è proprio buonissimo lo reputo un pochettino alto comunque ragazze con questo è tutto mi raccomando aspetto i vostri commenti e voglio che mi facciate sapere se avete già provato questi profumi se sapete a cosa corrisponde l'MD I Love vi mando un bacio grande ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao